ok ragazzi stai rastaccando il video siamo in 13 e Matteo ha fatto una cosa che non si sa spiegare mentre ha chillato due persone e sono andato con quella lancia granata che lancia cose knok 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 attenzione allo squalo perchè lo squalo rompe quello dietro quello dietro Matteo che mira 4 kg avete finito? no stavo venendo per società e mi hanno bruciato il team dietro vanno a prendere la scheda 3 2 che stai a fa? volevi sparare dall'alto Maurizio Costanzo che ora si glaccia tutto? allora va la Victor ma tu però cerca di non far durare tanto il secondo perchè poi ci sta 2 ore per caricarsi continuo della partita in 2 nel secondo ci metto con Matt Preb continuo della partita in 2 con Matt Preb vabbè dopo uscire? si infatti vai ma perchè fai finca che muori e poi salti? attenzione Matt Preb si avvicina fare concentrare ha sparato un razzo in fancoloni 7 bar che ci sono 7 bar che ci sono Matteo come ti ha preso la macchina? 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 ma che cosa? eh è difficile di se non parlo se facciamo l'incidente io non parlo io non parlo di che sta succedendo a Matt mi è mutato no raga come? da quale distanza ti hanno fatto con un fucile pesante a carica? quella è che è preso ma che c'era scritto? vabbè bella raga questa qua è stata la partita in 2 abusiva con Matteo grazie